Siete pronti per un'emozionante incursione nel mondo travolgente della promessa? Le anticipazioni delle prossime puntate promettono di mettere alla prova le relazioni tra i personaggi principali, in un crescendo di colpi di scena e rivelazioni che vi terranno con il fiato sospeso. Ma prima di continuare a guardare il video ricordati di iscriverti, lasciare un like e un commento. Partiamo dalla verità sconvolgente su Curro che sconvolgerà gli equilibri all'interno della trama. Mentre Gianna cura le ferite del giovane iniziano a sorgere dei dubbi sulla sua paternità. La mancanza di somiglianza tra Curro e suo padre Lorenzo spinge Gianna a indagare e presto deciderà di rivolgersi a Cruz, per scoprire la verità sulla sua vera identità. Nel frattempo, Romolo e Pia si uniscono per cercare di svelare il mistero dell'ostilità di Gregorio nei confronti di Romolo. Nonostante i loro sforzi, i due non riescono a fare progressi significativi, nel comprendere le ragioni dietro questa animosità, ma non si arrenderanno facilmente. Intanto, la vendita della preziosa spilla, delle marchesi di Lujan da parte di Cruz, per finanziare la sua festa di compleanno, scatena un'esplosione di rabbia, da parte di Catalina. La spilla aveva un significato profondo per lei, appartenendo a sua madre, donna Carmen. Catalina si confronta senza filtri con Cruz, dando vita a un confronto intenso, e senza compromessi. Cruz cercherà di riparare al danno fatto, e si scuserà con Maria Fernandez per il bacio, attribuendo l'episodio a un momento di sfogo nervoso causato dal rapimento di Camilo. Tuttavia, le spiegazioni di Cruz non saranno sufficienti per far dimenticare a Maria Fernandez l'evento e i sentimenti contrastanti che ne ha suscitato. Nel frattempo, il duca de los Infantes, arriva alla promessa con l'intento di celebrare il matrimonio tra, Jimena e Manuel, portando ulteriori tensioni e conflitti all'interno della storia. Alonso, profondamente deluso da Cruz per avergli nascosto la verità sulla spilla, si infuria. Le accuse di Alonso, riguardano non solo la vendita della preziosa spilla, ma anche il fatto che Cruz abbia nascosto il tutto, mentre tutti erano alla sua ricerca disperata. Le tensioni tra Alonso e Cruz risveglieranno le antiche lotte tra loro, con rivelazioni sorprendenti e pesanti accuse. Nonostante le difficoltà, i preparativi per il matrimonio tra Jimena e Manuel procedono senza intoppi, mostrando un profondo amore reciproco tra i due. Jimena riesce persino a convincere il, duca de los infantes a trascorrere del tempo alla promessa. Tuttavia, l'arrivo del duca porterà nuovi ostacoli, poiché sarà contrario al matrimonio, accusando la famiglia di Manuel di avere motivazioni puramente economiche. Sarà una lotta contro il tempo per Jimena, Manuel e gli altri protagonisti per superare queste sfide e garantire che il matrimonio si realizzi. Catalina, Martina e Gianna, inizieranno a nutrire forti dubbi sull'autenticità dell'amore, di Manuel per Jimena. Sospettano che Jimena e Cruz lo abbiano manipolato, approfittando della sua amnesia. Le tre donne sono convinte che Manuel debba essere messo di fronte ai suoi veri ricordi, e un'opportunità si presenterà. Quando la riparazione dell'aereo di Manuel sarà finalmente completata. Hanno in programma, di mostrargli il risultato, per aiutarlo a recuperare la memoria. Nonostante sia innamorata di Manuel, Gianna, deve confrontarsi con la sua posizione di cameriera, che mette in discussione, la possibilità di avere un futuro con lui. Si chiede se Catalina e Martina, facendo parte della famiglia, e avendo influenza e potere, faranno qualcosa per aiutare Manuel, sapendo delle manipolazioni di Jimena, e Cruz, e di come stiano ingannando un uomo confuso. Resta da vedere se queste figure influenti interverranno, o se Manuel sarà destinato a sposare Jimena, contro la sua volontà. Nel frattempo, Curro continua la sua ricerca, per scoprire chi sia il suo vero padre biologico. Ad un certo punto, Cruz gli confessa che Lorenzo non è suo padre, lasciando Curro senza parole. Dopo aver appreso ciò, Curro, affronta apertamente Lorenzo, il quale in modo non curante, e arrogante ammette che Curro, ha ragione. Tuttavia, rivela anche di non sapere, chi sia il vero padre di Curro, e gli consiglia di rinunciare a indagare, poiché, potrebbe compromettere qualsiasi possibile diritto ereditario. Romulo, è sconvolto quando scopre che le accuse di Gregorio, riguardo al suo coinvolgimento, nella morte del fratello minore di Gregorio, sono vere. Questa rivelazione scatena in Romulo, un profondo senso di colpa e rimorso, poiché fino a quel momento, non era consapevole della sua responsabilità. Anche Gregorio, come Giana, è arrivato alla promessa a causa della morte di un familiare, e questa verità avrà conseguenze emotive significative per entrambi. Lope sarà costretto a confessare finalmente a Maria ciò che sa su Salvador, ovvero che è stato tenuto prigioniero dal loro nemico. Tuttavia, a Maria Fernandez sarà difficile accettare questa dura realtà, e accuserà Lope di mentire per approfittarsi di lei e sostituire il suo amico. Il futuro della loro possibile relazione resta incerto poiché questa rivelazione avrà un impatto significativo sulla fiducia e sulla dinamica tra loro. La Marchesa, costretta dal marito, dovrà scendere in cucina per congratularsi con Candela, Simona e Lope, anche se segretamente desidererebbe licenziarli. Questo gesto sarà una sfida per la Marchesa, poiché dovrà mostrare una falsa cordialità verso i dipendenti che le stanno antipatici. In mezzo a tutti questi eventi, si noteranno dei progressi nella relazione tra Gianna e Curro. Si avvicina il momento in cui Curro scoprirà che Gianna è sua sorella, e sembra che si stia sviluppando un legame speciale tra di loro. Le anticipazioni suggeriscono che non ci saranno grandi sviluppi nella relazione tra Manuel e Gianna, poiché Gianna si concentrerà sulla riparazione dell'aereo di Manuel per aiutarlo a recuperare la memoria e sulla costruzione di una relazione più stretta con Curro. Le notizie sui licenziamenti alla promessa arriveranno ai dipendenti tramite Gregorio, che farà da tramite per questa comunicazione. Nel frattempo, Pia continuerà le sue indagini sul maggiordomo, ma i suoi sforzi non porteranno a risultati significativi. Al contrario, il suo rapporto con Gregorio si rafforzerà sempre di più, trasformandosi forse in qualcosa di più profondo. Ciò che Romolo non si aspetta, è che sarà proprio Gregorio a rivelargli il motivo dell'ostilità nei suoi confronti, svelando un retroscena sorprendente. Le relazioni amorose, i segreti inconfessabili, e gli intrighi continueranno ad intrecciarsi in la promessa, offrendo emozioni e sorprese ad ogni passo della storia. Per continuare a seguire iscriviti al canale.